L'attività della Polizia di Stato è illustrata attraverso i disegni di 12 famosi fumettisti. Queste saranno le tavole che rappresenteranno i mesi del 2019 nel nuovo calendario della Polizia di Stato. Dal 2001 il ricavato della vendita del calendario della Polizia di Stato è destinato a finanziare alcuni appelli umanitari dell'UNICEF. Solo lo scorso anno la vendita dei calendari della Polizia di Stato ha permesso di devolvere 117.000 euro al progetto UNICEF Italia Emergenza Bambini Migranti. Quest'anno il ricavato sarà devoluto al progetto Yemen, teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo. È possibile prenotare il calendario da parete, costo 8 euro, o da tavolo, costo 6 euro, entro il 24 settembre, previo versamento sul conto corrente postale numero 745000, intestato a Comitato Italiano per l'UNICEF. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale, calendario della Polizia di Stato 2019, per il progetto UNICEF Yemen.